Allora siamo sul set in esterni, ristorante, stiamo facendo un cambio di luce e quindi ne approfitto per fare questa panoramica, vero Lello? Sì, è il nostro parrucchiere, vero? E quindi siamo qua, vedi stanno preparando, stanno preparando, stanno preparando e tra un po' che si vedrà? Non lo so, è meglio non parlare va, vero? Zitti, zitti dobbiamo stare, Marina qui incontrerà qualcuno, ma chissà chi incontrerà.